Gizubishi Electric lancia sul mercato la nuova piattaforma integrata Servo in Motion Melservo J5 per rispondere alle richieste del mercato di integrazione nella fabbrica digitale e di aumento delle performance di macchina per incrementare la produttività ma anche aumentare la qualità del prodotto finito. La nuova piattaforma si compone dai motion controller che vanno da 8 a 256 assi con tempi di calcolo rapidissimi pari a 31,25 microsecondi e dai nuovi potenti servosistemi della famiglia MRJ5. I dispositivi sono connessi fra loro tramite l'innovativo Ethernet Based Network CC-Link AI-TSM il quale garantisce performance uniche in un sistema totalmente integrato e contenente gli ultimi standard tecnologici. I nuovi servo MRJ5 sono stati pensati e progettati per garantire progressività, connettività, semplice utilizzo, manutenibilità e contattibilità con il passato. La progressività è garantita da funzioni evolute integrate di serie nel sistema come alta velocità e precisione, funzioni di soppressione delle vibrazioni, alta efficienza e programmazione secondo lo standard IEC 61131-3 con blocchi e funzioni dedicati al motion control, i quali permettono di eseguire in modo semplice sincronizzazione di assi o cam elettroniche. Uno dei valori aggiunti presente nel sistema sono le funzioni di sicurezza integrate, oppure delle add-on function che sono scaricabili all'interno del motion controller che contengono le matematiche e le funzioni particolari per la gestione di una specifica applicazione. Una precisione altissima con un movimento estremamente fluido è generato dalla banda passante pari a 3,5 kHz e grazie ai servomotori di nuova generazione che integrano encoder assoluti di serie e battery less con risoluzione pari a 26 bit, quindi oltre 67 milioni di impulsi al giro. La connettività del sistema avviene tramite rete CC-Link ITSN, questo per esaltare al massimo le performance del sistema permettendo la totale integrazione dei sistemi IoT. La semplicità di utilizzo è uno dei parametri fondamentali considerati dagli sviluppatori. Il sistema infatti deve essere utilizzato al massimo delle sue performance senza creare difficoltà agli utenti i quali necessitano di ottimizzare i tempi di produzione. MRG5 ha un software di configurazione semplice ed intuitivo e da livello hardware i collegamenti avvengono con un unico cavo con connettori a rapido innestro. Le funzioni di autotuning permettono una regolazione ottimale dei cinematismi riducendo drasticamente i tempi di messa in servizio del sistema. Anche la manutenzione deve essere rapida ed affidabile e le funzioni di manutenzione predittiva sia dell'elettronica che del sistema meccanico contenuti all'interno dell'MRG5 ne fanno un sistema totalmente industry 4.0. Altro parametro fondamentale dove Mitsubishi Electric non transige durante la progettazione di nuove soluzioni è la totale compatibilità con il passato. Le dimensioni, i cablaggi, i parametri di programmazione rimangono invariati facendo in modo che il passaggio da una vecchia serie ad una nuova serie sia totalmente indolore per gli utenti permettendo quindi di impiegare le nuove tecnologie anche su sistemi già collaudati e contribuendo così al miglioramento delle performance di tutta l'apparecchiatura.